buongiorno e benvenuti sul mio canale youtube oggi vediamo un'altra cosa velocissima per un mio cliente che mi ha chiesto appunto aveva delle perplessità per quanto guardava sempre le boleane allora voglio fare delle prove per far vedere come funzionano le boleane come risolvere magari un problema che ha lui anche se ripeto in rhino purtroppo non ci sono dei comandi molto specifici per quanto riguarda le sezioni ecco quindi vediamo vediamo velocemente come farlo nella vista superiore e vado crearmi dei cubi quindi seleziono contro il c contro vi duplico anche questo qua questo modo qua e poi facciamo anche una cosa di questo tipo qui andiamo nel frontale nel frontale e ok in questo modo poi andiamo a prenderci una superficie e creiamo una superficie così ok andiamo in superiore perfetto ok andiamo in prospettica e andiamo a vederci quello che abbiamo realizzato anzi dobbiamo andare a realizzare anche una cosa di questo tipo qui quindi prendiamo di nuovo un parallelo epipedo e andiamo a sezionare questi due cubi in questo modo eccoci questo modo qua perfetto spostiamolo in attimo così non disturbano allora andiamo a vedere le boleane prima di tutto uno dei cubi lo esplodiamo per esploderlo vuol dire che l'abbiamo reso delle superfici in questo modo qua ok poi prendiamo il nostro cubo lo copiamo contro il c perfetto e andiamo a fare una boleana quindi se prendiamo lo strumento differenza boleana se lo faccio con un soldo quindi da questo invio voglio togliere questo faccio un altro invio non c'è problema perché ovviamente lui me lo me lo sottrae ok quindi poi contro il v lo rimettiamo sul posto vogliamo fare una differenza boleana con delle superfici diventa un'antimino una cosa un po più complicata perché ovviamente io faccio differenza boleana vado a selezionare le superfici alle quali dovrei creare una differenza boleana che è questa qui do l'invio gli dico questo me lo sottrae e vedete che non è successo niente in questo modo qua vedete quindi non mi ha fatto la differenza boleana perché siamo in presenza di una superficie con un solido a questo punto non posso fare una differenza boleana ma vado in wireframe in questo modo qui ok e poi vado a fare invece un tronca quindi tronca mi chiede gli oggetti taglio sarà questo l'oggetto italia do un invio e poi dovrò andare a selezionare le superfici che dovranno essere tagliate eccola qua in questo modo qui eccoci e poi ritorniamo facciamo esc ritorniamo in ombreggiata questo lo eliminiamo e vedete che io sono andato a tagliare la superficie quindi senza andare a dargli uno spessore quindi facendolo diventare un solido per poter poi fare una differenza boleana tra due solidi ma in questo modo qui ho utilizzato diciamo un solido come oggetto di taglio ok mentre se io ho un solido che che va a penetrare una superficie potrei fare anche una differenza boleana cosa vuol dire vuol dire che faccio differenza boleana diciamo da questo invio voglio sottrarre questo da un invio vedete che lui me lo va a fondere assieme però mi fa una differenza boleana in realtà in questo caso qui se poi vuoi questo non mi serve più ovviamente devo selezionarlo esploderlo ovviamente poi andare ad eliminare quello che non mi serve in questo modo qua e poi io diciamo bucato quello che è la mia superficie ok spero che questo video sia stato interessante anche per il mio cliente ma non solo anche per altre persone del mio canale e ci vediamo al prossimo video ciao da le onorovati ciao a tutti